La nostra società opera da quasi 65 anni nel mercato dell'arredamento, indirizzato verso il business, verso gli ambienti di lavoro. Abbiamo due divisioni, quello dell'arredo per ufficio e quello dell'arredamento per negozi. Sono 20 anni che stiamo allestendo i punti vendita di diverse società. Abbiamo iniziato con Telecom Italia e ci siamo specializzati in quelle che sono le catene di franchising. I nostri clienti sono i clienti tra i più importanti che si possono trovare in Italia, soprattutto del settore Telecom, quindi H3G, Telecom, Wind. Abbiamo poi diversi clienti anche nell'ambito finanziario, come Unicredito, Mediolanum, che ci hanno scelto soprattutto per la nostra capacità di poter aggregare, oltre alla capacità produttiva e organizzativa, anche diversi servizi in grado di poter sollevare queste società da diverse problematiche. Devo dire che ormai 20 anni ci hanno dato, credo, giustizia in quelle che sono la nostra capacità produttiva e organizzativa.